Sì, Donnarumma ha avuto un fastidio come anche Sorensen, che ovviamente andrà valutato, Ilias ha avuto una distorsione alla caviglia, ha finito zoppicando, Marino ha finito con Crampi, diciamo che nonostante 5 mi sembra cambi, ovviamente 3 partite di Serie B non sono come 3 partite di Serie C e quindi si spende di più anche dal punto di vista mentale.